Molti sono allettati dalla possibilità di sbloccare il proprio iPhone attraverso il jailbreak per poter utilizzarlo in modi diversi da quelli per i quali è stato progettato dalla Apple È una procedura però che è anche un po' rischiosa perché potrebbe compromettere la stabilità del sistema e quindi bloccare anche il telefono Quindi se ci si trova in una situazione del genere che in seguito al tentativo di effettuare il jailbreak del proprio telefono L'iPhone si blocchi e quindi rimanga bloccato sul logo della Apple e quindi non funziona in più Si può ripararlo utilizzando un software come Reboot Reboot è un programma pensato appunto per poter correggere eventuali difetti del sistema e quindi riparare il proprio dispositivo iOS e riprenderne il corretto utilizzo Reboot può essere utilizzato non solo con l'iPhone ma anche con un iPad, con un iPod Touch e anche con l'Apple TV Quindi se nel caso il telefono si blocchi al riavvio sul logo della Apple con Reboot si può ripararlo e riprenderne l'utilizzo Reboot è un software molto semplice che supporta anche altre funzionalità come per esempio la possibilità di aggiornare o di effettuare il downgrade di iOS Di fare il reset con un solo tasto e poi andando qui in altre funzionalità si possono trovare altre funzioni che possono essere utili a chi ha un dispositivo della Apple Come per esempio entrare nella modalità di FU oppure se perché magari si è attivata la modalità di FU uscirne sempre utilizzando Reboot Oppure mettere il telefono nella modalità recupero o anche correggere eventuali errori di iTunes Insomma è un software diciamo che può essere d'aiuto a tutti coloro che posseggono un dispositivo della Apple Ma quello di cui voglio parlare oggi è proprio la funzione di questo software per riparare un iPhone che è rimasto bloccato sul logo della Apple Quindi come bisogna procedere? Innanzitutto bisogna installare il software e una volta avviato cliccare sul pulsante inizia A questo punto vengono fornite due opzioni Riparazione standard e riparazione profonda La riparazione standard è quella consigliata perché consente di risolvere il problema dello blocco di iOS e anche altri problemi senza perdere i dati Quindi è la prima modalità che uno va a provare qualora il telefono rimanga bloccato Quindi il primo tentativo che si fa è quello di utilizzare la riparazione standard Qualora la riparazione standard non funzionasse quindi se il telefono continuasse a rimanere bloccato e quindi non si riuscisse a risolvere il problema O il sistema non risponde più correttamente allora si può pensare di utilizzare la riparazione profonda Riparazione profonda che diciamo riesce a riparare più problemi però comporta la cancellazione dei dati dal dispositivo Quindi dall'iPhone e quindi poi bisognerà eventualmente ripristinare il tutto da un vecchio backup Quindi la prima cosa che uno prova a fare è quella di utilizzare la riparazione standard in modo da poter mantenere tutti i dati Quindi si seleziona riparazione standard e quindi si clicca sul pulsante riparazione standard Prima di proseguire però è bene accertarsi che il telefono quindi che l'iPhone rispetti una serie di caratteristiche che sono elencate qui di seguito Quindi deve avere almeno 800 MB di spazio libero e il sistema poi verrà aggiornato all'ultima versione di iOS E naturalmente il jailbreak verrà anche eliminato in questo modo non darà più problemi Quindi una volta verificati che tutti i requisiti sono soddisfatti si passa a riparazione standard E quindi il passo successivo sarà quello di collegare il dispositivo al computer Quindi l'iPhone al computer con il cavetto della Apple in modo che venga riconosciuto Se è bloccato molto probabilmente il telefono non viene riconosciuto e quindi bisognerà metterlo nella modalità di recupero Modalità di recupero che può essere impostata seguendo le istruzioni mostrate sullo schermo Rayboot consente quindi di conoscere come mettere il telefono nella modalità di recupero in base alla versione dell'iPhone che uno possiede Quindi se uno ha l'iPhone 8 o un modello successivo quindi quelli senza il tasto fisico senza il Touch ID allora c'è una procedura Se invece si possiede un iPhone 7 o 7 Plus si utilizza un'altra procedura Se invece si hanno modelli di iPhone un po' più vecchiotti quelli con il tasto Touch ID allora c'è la procedura apposta per loro Quindi si seleziona la procedura per il proprio iPhone e quindi la si esegue per poter collegare correttamente l'iPhone e farlo riconoscere da Rayboot Come ho detto prima Rayboot può essere utilizzato anche con altri dispositivi della Apple e in questo caso per avere le istruzioni per poter mettere questi dispositivi nella modalità di recupero Bisognerà selezionare il dispositivo qui dall'angolo in alto a destra e quindi selezionare per esempio se si ha un iPad punto l'iPad se si ha un iPod l'iPod e così via Quindi nel mio caso rimango selezionato l'iPhone e quindi dopo aver selezionato il modello che possiedo seguo le istruzioni per metterlo nella modalità di recupero Una volta che il telefono è stato riconosciuto e quindi è possibile aggiornare il firmware all'ultima versione e quindi andare a recuperarlo ed eliminare i possibili bug che si sono verificati Quindi si clicca sul pulsante scarica e quindi si attende che viene scaricato il pacchetto del firmware Qualora ci fosse un problema con il download si può anche importare il firmware manualmente ma questa è un'eventualità rara e quindi si procede con la procedura automatica Una volta scaricato il firmware quindi si passa al passo successivo cliccando su riparazione standard ora Reboot verificherà il firmware e quindi poi procederà alla sua installazione Una volta completato il riprisione del telefono quindi si potrà riprenderne l'utilizzo e cliccare sul tasto fatto E quindi si potrà uscire da Reboot e quindi rifare l'accesso al proprio telefono e riprenderne l'utilizzo Quindi Reboot è un tool molto utile per chi ha un iPhone e quindi vuole avere uno strumento per poter ripristinare il proprio telefono Qualora succedesse qualche problema che può essere acquistato direttamente sul sito del produttore Andando alla pagina di cui ho messo le indicazioni nella descrizione di questo video Ora Reboot è disponibile con diverse tipologie di licenza C'è la licenza a vita, la licenza per un anno e anche la licenza per un mese Qualora uno volesse comunque acquistare Reboot solo per risolvere un problema sporadico Mentre se uno vuole avere la possibilità di poter utilizzare Reboot per sempre può scegliere la licenza a vita